buongiorno a tutti allora visto e considerato che ho cinque video da fare che riguardano appunto le schedine e bollettine del gigione per quanto riguarda appunto le qualificazioni ai prossimi mondiali dobbiamo vedere l'esito perché lì arrivano le dolenti note come si diceva una volta no come il ragazzino che cerca di mandare più il più avanti possibile da far firmare la però è una cambialona sono cinque cambialone che ahimè vanno onorate se sono andate bene mi farò i complimenti se sono andate male chiederò venia allora diciamo che mercoledì non è andata benissimo è la prima che controllo le altre non le ho ancora viste ne devo ancora vederle perché mi piace ve l'ho detto le cose con cano quando è il momento si guardano comunque per quanto riguarda la schedina classica ho azzeccato nove partite su 13 calcolando che ho inserito anche quatar lussemburgo che non c'entrava niente era un amichevole in preparazione però era inserita nella lista ho detto l'avevo messa quindi ho inserito anche quella le partite che ho sbagliato ahimè sono finlandia bosnia zegovina che ho messo l'uno due ed è finita con un pareggione da paura due a due poi ho sbagliato francia ucraina e ci sta avevo messo l'uno è finita uno a uno e poi le altre due sono tutte due di inaspettate due partite inaspettate il pareggio della slovacchia cipro 0 a 0 avevo messo il due e ahimè è finita 0 a 0 e la sconfitta della croazia vice campione del mondo in slovenia per uno a zero avevo messo anche qui il due quindi queste sono le quattro partite che ho sbagliato devo dire che erano tre sono risultati abbastanza inaspettati concedetemelo e l'altro è un pareggio tra finlandia e bosnia zegovina avevo messo l'uno due proprio perché era una partita da aiuto alla fine finita due a due se non erro in rimonta di una delle due squadre se non ricordo male comunque è andata così devo dire chiedere parzialmente venia perché comunque 9 su 13 è una buona media siamo intorno al 70 per cento quindi la media è quella la mia media è quella poi ogni tanto faccio anche il 100 per cento però non sempre è andato un pochettino proprio un attimino meno bene con la schedina alternativa perché ne ho sbagliate 5 anziché 4 ne ho sbagliate 5 allora la prima che ho sbagliato è stato portogallo azerbaijan avevo messo l'over 2 e mezzo è finita 1 a 0 però d'altronde portogallo cr7 prima partita della nazionale contro l'azerbaijan ti aspetti che faccia una goleada e invece 1 a 0 non sprechiamoci l'altra partita che ho sbagliato è stata francia ucraina che è terminata 1 a 1 avevo messo l'over 2 e mezzo quindi non è che ho sbagliato di chissà quanto e poi ho sbagliato le ultime tre perché avevo messo cipro slovacchia over 1 e mezzo è finita 1 a 0 anzi è finita 0 a 0 slovenia croazia avevo messo gol è finita 1 a 0 tra l'altro ha segnato la squadra che non ti aspetti e equatar lussemburgo avevo messo gol anche qui e invece è finita 1 a 0 quindi queste sono le partite che ahimè ho sbagliato le altre le avevo prese tutte per quanto riguarda le schedine e bollettine del gigione devo dire che come al solito succede quello che non ti aspetti allora per quanto riguarda le fisse io come partita avevo scelto serbia irlanda slovenia croazia cipro slovacchia e lettonia montenegro ho scelto le due partite che hanno tirato fuori la sorpresa cioè la vittoria della slovenia sulla croazia e il pareggio 0 a 0 di cipro con la slovacchia che già lì mi chiude subito il discorso su tutte le altre opzioni perché il multigol non ci può essere una partita è finita 0 a 0 l'over 1 e mezzo della doppia chance più over non ci può essere perché una partita è finita 0 a 0 il gol caso al gol ospite non ci può essere perché una partita è finita a 0 a 0 e il gol più over è l'uno più gol o due più gol eccetera eccetera non ci può essere perché una partita è finita 0 a 0 però come vi dico sempre no le due partite in cui il gol più over era meno favorito rispetto alle altre quindi serbia irlanda e lettonia montenegro gol più over slovenia croazia e cipro slovenia croazia e cipro slovacchia che invece erano nome favorite sicuramente ma pochettino più favorite rispetto alle altre due che invece erano teoricamente improponibili tra virgolette vedendo che era una differenza superiore all'uno sono uscite addirittura in serbia irlanda sono usciti 5 gol lettonia montenegro ha segnato a tutte e due le squadre finita 1 a 2 quindi cioè non c'è cioè tu puoi stare lì a studiare a guardare a fare a brigare eccetera devi andare distinto come dico sempre poi è logico quando ci sono determinate partite hai il 90 per cento che esca quel determinato risultato però sempre dietro l'angolo c'è quello che non ti aspetti comunque ragasoli la prima è andata così devo chiedere venia perché giustamente se sbaglio le partite scegliere le partite che mi finiscono 0 a 0 è giusto chiedere venia io sono una persona umile se sbaglia lo dico non ho problemi non mi cambia la vita dire scusate ho sbagliato non sono Fonzi sono Ricky Cunningham al massimo anzi sono un incrocio tra gli altri tre tra Ralph Malfe, Ricky Cunningham e Pozzi Webber messi assieme detto questo ci vediamo alla prossima ciao ciao